Il Genoa Nel momento più terribile della mia vita il Genoa mi ha salvato. La passione ha fatto ribattere un cuore che era diventato un'automa. Mi raccomando, lo striscione, proteggiamolo. Io ho i miei amici, i miei ragazzi della gradinata. Che li bacerei tutti. Buonasera. Buonasera. È grande. Il mio rapporto con la squadra è un rapporto autentico. Mi accosto a loro come un papà. Quello che mi manca più del cacciogiocato è indossare la maglia del Genoa e la fascia. Noi abbiamo un argentino. Gioca meglio di Pelé. Fa le danze sul pallone. È grande. 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 È grande.